Il 3 marzo la fumata bianca, forse. Il Consiglio dei Ministri disegnerà il commissario alla sanità in Calabria. Coloro che auspicano che tale onere possa cadere sulle spalle del governatore, che più volte aveva manifestato la necessità di prendere direttamente in mano le redini del comparto, resterà probabilmente deluso, perché il cumulo delle cariche concesso alle regioni Lazio e Campania risulterebbe insuperabile per la Calabria, alla luce del codicillo inserito nella legge di stabilità e così sia. Oliverio di per sé provato ma non fiaccato dal lavorante lavoro di riforma avviato sin dall'insediamento sbotta. Sto chiedendo insistentemente al governo e al ministro della salute in particolare di chiudere questa telenovela che è assolutamente insopportabile e intollerabile. Così il presidente della regione Calabria al termine della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti che si è svolta a Catanzaro. Pronunciandosi sulle dolgianze espresse dalla magistratura contabile sulla gestione sanitaria in Calabria, il governatore poi ha aggiunto. Abbiamo bisogno in questa regione di un servizio sanitario efficiente, mentre invece dobbiamo registrare situazioni paradossali, come ad esempio la struttura del centro di cardiochirurgia a Reggio Calabria, realizzata e mai attivata. Mentre dall'altra parte abbiamo una mobilità passiva di tanti calabresi che per tutelare la loro salute ricorrono all'esterno proprio su questa patologia. È un paradosso, ha concluso Oliverio, e dobbiamo lavorare per superarlo. Si costruisca un servizio sanitario qualificato.